salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video voglio solo semplicemente farvi vedere per chi non lo sa come è fatta una trappola prendipolline la trappola prendipolline e si presenta in questo modo questo qua è l'ingresso mentre questo qua praticamente la parte posteriore che va agganciato all'arnia da questi due linguette qua parlo dove c'è l'ingresso dell'arnia dove mettete la porticina classica che poi girerete poi in inverno avete presente di cosa sto parlando quindi praticamente viene montato immaginate che il pannello verde dietro questo questa superficie qua sia l'arnia viene montato così davanti e poi praticamente agganciato diviene questa praticamente questo questo contenitore qua che non è nient'altro che raccoglitore del polline vista da sotto e così le impurità vanno sotto e vi faccio vedere due tipi di questa griglia qua che quella dove praticamente allora le api entrano da questi forellini questi forellini qua sono fatti presso a poco più grandi del diametro dell'ape diciamo le zampine dell'ape praticamente custodisce poi il polline e quindi quando l'ape cerca di entrare dentro il forellino dalle zampe lì si sfila praticamente il pezzettino di polline che cade in questa griglietta qua sopra questa griglia qua che è più grossa di questa griglia qua che quella lì dove viene invece immagazzinato e passa da questa grigliettina qua e finisce dentro questa questa scatolina qua e le impurità più piccole se ne vanno via che se possono essere residui di di come si chiama residui di zampite rotte o sporcizia poi comunque quando ne sia un po lo si lo si fa un po lo si setaccia un po e comunque viene poi lavorato con un processo che ognuno usa il suo il suo metodo e niente è molto semplice e tutto sta in questi forellini praticamente in questa griglietta qua ma quelle sono le misure praticamente che si possono reperire anche in una ferramenta e quindi questo lo si può anche costruire e se si ha addirittura una punta si sia una punta scusate una punta di questo diametro praticamente prendete un pezzo di plastica ve lo potete costruire benissimo anche voi perché molto semplice da fare e non è assolutamente difficile quindi boh e alla portata anche di tutti per chi vuole costruirlo non è non è una cosa impossibile e boh via niente boh questo qua è tutto ci vediamo poi nel prossimo video vi farò vedere poi il melario ciao ciao mi raccomando iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per essere informati sui nuovi video ciao